Una grande occasione per il Trentino, la partenza del Tour di Polonia, per far conoscere le nostre meravigliose vallate, i nostri territori, le nostre istituzioni, fra cui la Cupola del Mar, dove siamo ospiti oggi. Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto, un'istituzione museale che sta riscontrando grandi risultati, grandi interessi da parte dei turisti che hanno una grande attenzione a quella che è la cultura, a quello che è il passato e la storia. Per noi è l'occasione anche di arricchire il nostro prodotto turistico, un prodotto turistico che in questi ultimi anni ha visto una consistente presenza da parte degli amici della Polonia, una terra amica del Trentino. Va ricordato la presenza di sua santità, Papa Giovanni Paolo II, nella Damello, la visita a Trento, un uomo che si è speso per la pace nel mondo, che ha portato il Trentino nel cuore, per noi questo è il motivo di grande orgoglio. Qual è il percorso naturalmente per le due tappe che si organizzeranno in Trentino? La prima porta dal MART, da sede del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, verso le Dolomiti occidentali, nel cuore del Brenta, oggi patrimonio dell'umanità, e percorrendo, credo, alcune vallate interessanti dal lago di Garda, conosciuto soprattutto per gli amici della Germania, della Polonia, e come la spiaggia, direi, dorata, per questo noi è un passaggio importante. Per poi salire verso Madonna di Campiglio, la punta di diamante del prodotto turistico montano, una stazione turistica conosciuta anche per l'organizzazione di gare di Coppa del Mondo, dello sci alpino, che quest'anno ritornerà. Questo credo che sia anche a merito degli amici della Polonia, perché questa abbinata, per noi, è un'abbinata importante. La seconda tappa vedrà l'interesse della Valle di Sole, una valle conosciuta in Polonia, conosciuta dagli amici polacchi, per arrivare, direi, a uno dei passi che ha fatto la storia del ciclismo, Passo Pordoi, percorrendo la Valle di Sole, la Piana Rotaliana, il più bel giardino avvitato d'Europa, dove c'è un'ottima produzione di vino, che è il Teroldevo, conosciuto e apprezzato nel mondo, per poi salire la Valle di Cembra. Perché la Valle di Cembra? Perché è la terra di Francesco Moser, e anche di Moreno Moser, visto che è stato l'ultimo vincitore del tour di Polonia. Lì ci sarà la possibilità di ammirare quella che è una grande tensione della viticoltura, una viticoltura di montagna. Noi la consideriamo una viticoltura eroica, proprio per la grande passione che, direi, gli amici di quella valle mettono nei confronti del paesaggio, nei confronti dell'ambiente, per poi percorrere la Valle di Fiemme. La Valle di Fiemme sarà teatro nel 2013 nei campionati del mondo di Sinordico, e la Polonia conosce quella valle con i suoi straordinari atleti, che hanno avuto modo, naturalmente, anche di ottenere straordinari risultati sportivi. Una valle di Fiemme, e qui va ricordato, che è l'unica realtà a sud delle Alpi che in vent'anni ha ottenuto l'organizzazione dei campionati del mondo. Questo testimonia il grande impegno del volontariato sportivo, che è una delle anime dell'offerta turistica a Trentino. Per poi, naturalmente, anche ammirare la Valle di Fassa, una valle in cui emergono la forza delle Dolomiti orientali. Pensiamo al gruppo del Catinaccio, al gruppo del Sella, per raggiungere il passo del Pordoi, passando per Moena, Canazzei, e poi l'arrivo al passo del Pordoi con la terrazza del Pordoi, in cui chi sale, e sono sicuro che in quelle giornate tanti saliranno, mentre hanno la possibilità, se il sole veramente si sarà compagno di viaggio, di ammirare, credo, un paesaggio unico al mondo, un paesaggio che per il Trentino è sempre stato il motore della crescita, dello sviluppo, di portare tanti turisti, e soprattutto gli amici della Polonia. Che devo dire, e qui voglio anche ringraziare, ringraziare il team della Micoland, dei suoi collaboratori, per la grande disponibilità, che hanno sempre dimostrato nei confronti del Trentino, e noi vogliamo ripagare di questa fiducia, con quell'accoglienza, con l'ospitalità, che è l'anima dei nostri operatori del mondo del turismo, cercheremo veramente non tanto di utilizzare, ma di far sì che questo abbraccio, fatto naturalmente di simpatia, di amicizia con la Polonia, possa proseguire in futuro, grazie all'amico Giorgio Gelmeti, che lo devo dire, che si è speso con compassione, un modo disinteressato, per aspetti suoi, affettivi, che ha con la Polonia, e di questo voglio ringraziarlo.